Non vedele Dai nonno guardate su un banco vengo un po' fuori non si sente niente che c'è molte parole allora una maninetta è andata a comprare il cibo per stasera ciao 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 Rocco questo è un benzerino per te amica mia e questo è a te un benzerino piccolo piccolo però a te più piccolo guarda tu come hai con i miei vedi se ti piace è perché chiama da mamma se non ti piace c'è che trovo a camera a me mi piace chi va? ti va? ti va? ti va? ti va? ti va? ti va? vedete ragazzi lo avete? vedete lo avevo adesso non c'è non c'è non c'è quindi ti piace le dovevo portare a casa ma io non c'è adesso è un'altra cosa adesso non c'è adesso non c'è adesso qui Visto che ieri... Ciao, vado fuori, come sta? Aspetta, vado fuori, così. Ieri, visto che andai con me a non di mia sorella, mi hanno fatto un regolino, amica di mia mamma, che è stato stupendo. Eh, grazie. E' bellissimo. Sono andate le persone. E poi non andiamo più al supermascato perché andate già a nonno. E' bellissimo. E' bellissimo. E' bellissimo. E' bellissimo. E' bellissimo, guarda. E' bellissimo.